Ma dov'è finito il mio overpilder? Vediamo, ce lo trovo. Yamatovideo.com Così. Questa è la serie TV. Qui ci sono altri DVD. Ehi, quante novità! Libri, fumetti... Però, che assortimento! I cd con le sigle e le colonne sonore. Ah, ecco i gadget. Dovrei trovarlo qui. Vediamo. Eccolo. Yamatovideo.com Trovato!